Luca Frigo, giocatore di hockey, lusarnese, atleta dell'HC Valpellice e da quest'anno anche della Nazionale Italiana. 22 anni, il prossimo 30 maggio, ha esordito per la prima volta con la Nazionale Italiana Senior di Hockey su Ghiaccio ai mondiali che si sono svolti in Polonia. Luca, com'è stato questo esordio? Come prima esperienza è andata bene, personalmente mi sono molto divertito, c'è un gruppo giovanissimo e di persone comunque molto professionali. Complessivamente è andato bene, abbiamo creato un bel gruppo in spogliatoio, fuori dallo spogliatoio e quindi sono molto contento di questa esperienza. Nella quarta partita contro il Giappone hai anche segnato un gol, il primo gol per l'Italia. Che emozione è stata? È stata un'emozione indescrivibile. Abbiamo creato questa azione, passaggio a Trivellato, Trivellato lo ri da me, io mi giro, passo a Anton Bernard, il quale tira e un imbalzo arriva giusto sul mio bastone, sono riuscito a metterlo dentro. È un gol importante perché alla fine del primo tempo ci ha dato una grande carica. Raccontaci come sono state le altre gare del girone per l'Italia. Quella sfida lì l'abbiamo persa negli ultimi minuti, eravamo in vantaggio al primo tempo, poi hanno fatto l'1-1, noi siamo riusciti a segnare il 2-1 e negli ultimi quattro minuti hanno fatto il loro gioco e ci hanno sconfitti. Abbiamo iniziato bene contro la Polonia, abbiamo giocato come sapevano giocare, come voleva l'allenatore e siamo riusciti a vincere con un gol 4 contro 5 di Anton Bernard e da lì abbiamo detto possiamo continuare così e giocare come squadra e andare avanti. Il giorno dopo abbiamo giocato contro l'Ucraina, abbiamo vinto agli overtime, una vittoria importantissima che ci ha tolto dalla discussione a retrocessione e poi abbiamo avuto questo giorno di pausa dove abbiamo fatto allenamento tranquillo giusto per rilassarci un po' e sciogliere le gambe e il giorno dopo abbiamo incontrato il Giappone. È stata la nostra prima brutta sconfitta e dopodiché non siamo più riusciti a risalire a battere l'Ungaria e il Kazakistan. Il mondiale per l'Italia però non è andato benissimo. Certo è stata evitata la retrocessione, l'Italia ha chiuso quinta nella classifica su sei squadre, poteva andare meglio questa missione polacca? Ma sicuramente si poteva far meglio perché eravamo all'altezza, forse l'unica squadra un po' fuori dalla nostra portata era il Kazakistan, è andato a medaglia d'oro con punteggio pieno, però le altre sicuramente il Giappone dovevamo vincere e l'Ungaria potevamo giocare decisamente meglio. Passerà la storia per essere stato il primo valligiano a vestire la maglia della nazionale di hockey su ghiaccio per la categoria senior. Che emozione ti ha dato? Ma sicuramente un'emozione enorme perché alla fine essere il primo valligiano, l'unico valligiano a indossare la maglia senior della nazionale è una cosa bellissima. Ovviamente non deve essere l'unica volta, spero che ce ne siano altre e lavorerò per arrivare a indossarla ancora altre volte. Pensi di essere un esempio per i più giovani, magari per le giovanili della Cacival Pellice? Ma come ho sempre fatto io, ho seguito sempre l'esempio dei più grandi, quelli che erano più avanti a me, quelli che erano più bravi di me. Penso per i giovani della Valpe di essere non un esempio, ma tutti possono farci, basta lavorare duro e aver voglia di arrivare. Cambiamo argomento, parliamo della tua esperienza americana. Tu sei cresciuto nell'HC Val Pellice, ma poi hai passato due anni, dal 2012 al 2014, negli Stati Uniti d'America, negli Omaha Lancers. Quanto ti è servito? Ok, sicuramente parlando, mi ha fatto crescere tantissimo. Sono arrivato là da un campionato di serie A, che è completamente diverso da come giocano l'hockey negli Stati Uniti, là è tutto più fisico, più veloce. Ho giocato contro gente della mia età, quindi anche quello vuol dire, qui giochi contro gente più grande, già professionisti, quindi è tutto diverso. Sono stato via due anni senza la mia famiglia ed è stata per i primi mesi molto dura. Avevo voglia di tornare a casa, non parlavo benissimo inglese, quindi non riuscivo a comunicare bene con gli altri. Sono tornato per il Mondiale Under 20 a Natale. Ritornando su mi sono inserito meglio, ho iniziato a comunicare un po' di più. Anche i miei compagni, la famiglia, l'allenatore e tutto hanno cercato di inserirmi molto nella squadra e ci sono riusciti perfettamente. La rifaresti come esperienza? Mille volte, la rifarei mille volte. Parliamo di quello che potrebbe essere il tuo futuro. La scorsa stagione hai giocato nella Cacival Pellice e il prossimo anno? Per ora non ho nulla tra le mani. Bisognerà aspettare ancora qualche mese, vedere cosa si sblocca. Non hai avuto nessun contatto? No, nessun contatto da nessuna parte. Neanche nella Cacival Pellice? Sì, la Val per fine stagione hanno parlato un po' per il prossimo anno, però ancora nulla di serio. Al Mondiale, il livello di hockey giocato dalle altre squadre ti è sembrato tanto diverso da quello che si gioca in Italia? Le squadre che ho notato che erano molto più forti fisicamente e tecnicamente sono state Kazakisan, che più della metà della squadra gioca in KHL in Russia e l'Ungheria. E ha molti giocatori che giocano in Ebel, il campionato austriaco, ed è un livello molto alto rispetto al campionato italiano. Anche noi abbiamo giocatori che giocano in Ebel, giocatori che giocano in DL. Avendo queste squadre con cui competere, è una bella esperienza. Come ti sei trovato con il coach della nazionale italiana, Stefan Maier? Lui ha iniziato questo progetto, come tutti noi, da zero. Penso che se la sia cavata bene. Ovviamente è una squadra molto giovane, è difficile da avere aspettative alte come potevano essere quelle di anni fa, che c'erano tanti italo, gente più esperte. Però secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Durante il campionato, tra le squadre di club, sono soventi gli episodi di cazzotti o riste sul ghiaccio. Com'è poi il rapporto in nazionale? Sì, ma finisce subito dopo la partita in crack club. A fine si gioca per la propria squadra e quindi si deve vincere a tutti i costi. Qualche pugno di qua, pugno di là ci sta alla fine. Però in nazionale è tutto cancellato.